Siamo adesso qui con il maestro restauratore, nonché l'allestitore di tutto questo stupendo presepe, appunto il maestro Nicolò Giacalone. Grazie di essere qui con noi su HTO. Grazie a voi, grazie a HTO. Bene, allora Nicolò, parlaci un po' di questi personaggi che sono davvero stupendi. Vogliamo parlare subito degli angeli che sono rappresentativi dell'unione del cielo con la terra per l'annuncio della nascita di un bambino. Dobbiamo spiegare, come già ci aveva detto in precedenza il maestro, che il presepe e anche i personaggi hanno un ruolo ben preciso, giusto? Quindi ognuno di loro non sono stati messi a caso, ma rivestono appunto un ruolo preciso. Ci puoi spiegare, non so, il ruolo di qualcuno di questi personaggi? Il personaggio del presepe napoletano ha un significato, come dicevi prima, ben preciso. Ad esempio parliamo dei poveri, la gente che chiede l'eremosina durante questa visita alla natività rappresenta anche l'anima di una persona che sta in purgatorio che chiede le messe di suffraggio a favore, quindi c'è un significato anche in ogni figurina, figura in questo caso storica delle presepe. Non so se avete già parlato della data azione di fattura di queste figure, sono del 1700, metà 1700 fino a 1800, è un misto. Queste figure sono state acquistate per l'occasione della mostra dell'Unità d'Italia avvenuta nel 1911, organizzata da Lamberto Loria e sono delle figure selezionate da persone molto competenti per l'epoca. Esiste anche un carteggio storico per quanto riguarda l'acquisizione fra Loria e i suoi fedeli collaboratori. Quindi hanno una preziosità, a parte la bellezza che si può ammirare fisicamente, sono preziosi anche per questo sudare l'acquisizione, se possiamo dire. C'è una sofferenza di prezzo, di tirare il prezzo. Comunque ci sono alcune figure che nel 1909, in preparazione a questa mostra nel 1911, costarono 3500 lire. Quindi vi lascio immaginare l'enorme sforzo di spesa per l'epoca, per questa grandissima mostra. Parlavamo appunto, io mi vorrei soffermare ancora sull'importanza che hanno questi personaggi. Quindi hai parlato adesso dei poveri, chiedono suffraggio. Sì, tant'è vero che sono stati collocati, non casualmente ma volutamente, sotto il gruppo degli angeli. Quindi c'è un'unione cielo-terra, grazie sempre a questa nascita. Questi due personaggi, ad esempio, che io indico con la mano, alcuni studiosi li hanno individuati come due ebrei dalla capiatura dei Boccoli. Questi personaggi sono stati esposti in diversi musei all'estero. Siamo stati a San Pietroburgo qualche anno fa, a Torino alla Regia di Venaria. Due anni fa siamo stati anche ospiti del Quirinale. La mostra è stata inaugurata direttamente dal Presidente della Repubblica. E quindi abbiamo messo dei personaggi selezionati molto più rappresentativi, sia come valore storico, valore di simbolo, valore di insieme del presepe. Ci siamo spostati in un'altra parte del presepe per parlare. Adesso quello che mi hanno colpito sono questi personaggi, questa famiglia molto particolare, anche vestita in un modo particolare. Dicci un po' qualcosa. Questo è un gruppo di personaggi in terracotta, legno, occhi in vetro. La datazione dovrebbe essere 1745-1750. La figura è una famiglia povera. Fra le gambe, non so se si vede bene, comunque si deve dire, fra le gambe della mamma c'è un bambino che prende di nascosto, che ha rubato forse un pozzo di pane, alla sorella che piange per la fame che ha. Chiaramente anche questo gruppo raffigura sempre l'anima del purgatorio che chiede più messe di sovraggio per la salvezza. Da questo gruppo passiamo per esempio invece a quest'altra che è di dimensioni maggiore. Questa è una figura datata e firmata, perché le figure sono firmate abitualmente o nella pettiglia, quindi nel davanti del petto, o alle spalle o all'interno della testa modellata in terracotta. Questa figura ha la testa in terracotta, appunto gli occhi in vetro, le mani e i piedi sono in legno. I vestiti sono tutti originali, di tutti, di tutte le figure esposte. Restaurate per la conservazione, eccetera. Restaurate da te naturalmente? Sì, moltissime le ho restaurate. Io negli anni penso di aver fatto un lavoro di circa 12 anni per raggiungere un numero di figure utili poi per l'esposizione delle varie mostre nel mondo. Cosa si prova a prendere in mano, a toccare questi personaggi? Anche perché non possiamo toccarli noi, cioè tu hai l'onore e il privilegio di poterli prendere, toccare, lavorarci. Diciamo che è una grossa responsabilità perché comunque si toccano oggetti che sono di proprietà dello Stato, quindi oggetti che saranno visti fra 50, fra 100, fra 200 anni. Quindi il lavoro del restauratore non è intervenire per far vedere che è bravo, come è successo fino agli anni 60 in cui alcuni restauratori dipingevano sopra e facevano cose nuove e belle. Il restauratore è conservare per fare vedere, anche a distanza di cent'anni e cent'anni. Quindi io mi sento leggermente immortale con questi pezzi, con molta modessa. Personaggi del presepe, ma non solo personaggi, ci sono anche degli animali. Parlaci un po' di questi animali. Gli animali, degli accessori. Il presepe è composto di tanti piccoli particolari, come avrà detto sicuramente il maestro Maceriello. E' una rappresentazione scenica di una cosa che è successa, riprodotta con fantasia. Guardate i particolari di alcuni animali. Alcuni sono firmati perché nel mondo preseparo c'era l'autore delle figure, l'autore degli animali, l'autore degli angeli, l'autore dei puttini. Ognuno era specialista, diciamo, nel realizzare un personaggio particolare. Prendo in esclusiva per HTO una figura di un animale per far ammirare proprio ancora più da vicino la particolarità della quasi chiamata leziosità, ma per me no è proprio un gioco di prestigio dell'autore del 1700. Perché adesso comunque ringraziamo per averci lasciato queste figure eccezionali. Dovete osservare gli occhi, l'espressione, la posizione e la patina. Questa ha avuto pochissimi interventi, comunque sempre nel rispetto dell'opera. Non ci sono mai interventi invasivi. La rimetto delicatamente nel presente. Come vedete ognuno ha un numero di inventario perché ogni figura, ogni animale, ogni accessorio è inventariato. C'è una scheda per individuarlo. Sono, credo, nella collezione più di 900.000 pezzi. La collezione del Museo d'Arte e Tradizioni Popolari, il Museo delle Civili. E' una collezione unica, credo, in tutto il mondo. Guardate anche il mantello del re. Lavorato ancora con delle sete che si producevano a Salencio, vicino Caserta, dove c'era proprio una seteria famosissima. Queste sono originalissime, con i ricami fatti a mano di pagliette, di fili di argento, fili di oro, sono dei cose eccezionali. Queste per toccare dovrei avere il lagguanto, quindi non vi posso fare nemmeno tutto. Per trasferirci poi alla parte del convivio, dovrei parlare solo delle figure ma vorrei fare i complimenti perché è sempre un piacere. Non dovrei farli perché il maestro non ha bisogno di avere i complimenti, però è un piacere collaborare con Maciariello perché cura i particolari delle colonne. Queste scenografie sono state fatte da lui, però si sposano bene con l'antichità del personaggio, quindi valorizzano il personaggio e non prendono la scena. Poi usa dei toni di colore che invito ad osservare perché abitualmente non ha osservarsi particolari. E anche come invecchia i mattoni, cioè rispetta l'importanza delle figure. Qui c'è un gruppo di persone che mangiano, come vedete c'è la torta, ci sono gli spaghetti. Questi sono tutti accessori, alcuni sono antichi, altri moderni. Questi accessori sono frutto della ricerca sempre del maestro Maciariello che ringrazio di avere pazienza quando creiamo un presepe. Questa è una parte del presepe libero, giusto? Quindi non rispecchia i canoni, giusto o no? Il presepe canonico napoletano dovrebbe rispettare tre canoni, la parte centrale, la parte di sinistra e la parte di destra. Immaginate un presepe diviso in tre parti. Nella centralità della scenografia ci deve essere obbligatoriamente la natività. Nella parte sinistra c'è la parte dei dormienti, quindi dei pastori, degli animali. E nella parte destra c'è il convivio, c'è il divertimento, la distrazione dalle cose sacre. Questa è la regola per un presepe. Questo è stato fatto rispettando la regola ma con molte improvvisazioni relative. Perché servono comunque a far ammirare da una certa distanza le figure, anche i ragazzi, che sono molto interessati a vedere queste figure. Purtroppo noi siamo abituati ormai a non avere più il gusto delle cose belle. Siamo stati disabituati al bello. Per cui è anche una cosa fatta a male, basta che c'è scritto di pinta a mano, ci stupiamo e l'artistiamo c'è di pinta a mano. Cioè noi ci ricordiamo che in Italia abbiamo delle opere, del tutto eccezionali, che dicevano all'epoca di pinta a mano, era ovvio. Quindi immaginate la bellezza, la mostrosità del confezionato a mano. Per fare una figura del presepe c'era addirittura un'intera famiglia che ci lavorava. La moglie si occupava della confezione dei costumi, degli abiti, quindi su ricerche per l'abito nel Settecento. Il marito si preoccupava di fare la testa, altri esperti in legno scoltivano le mani. C'è proprio una collaborazione familiare per la realizzazione di ogni figura. A proposito di dormienti, abbiamo il protagonista per eccellenza dei dormienti. Anche si può dire anche un po' il protagonista del presepe. Sì, specialmente dal titolo di quest'anno che è il presepe del re nel sogno di Benino. Benino è questo personaggio che dorme ed è l'unico personaggio che non vede la scena della notte della nascita di Gesù Cristo. Però sogna tutto, sogna tutto perché gli viene poi raccontato e confermato da un angelo. Questa sarebbe anche una scena diciamo quasi biblica perché racconta, evangelica, racconta l'annuncio degli angeli e dei pastori dormienti. Ora in questo caso c'è anche la tradizione popolare napoletana che raffigura Benino come l'uomo che dorme e non vede la bellezza di quello che è successo durante quella notte in cui un Dio si incarna e scende sulla terra. Con l'annuncio di tutti gli angeli. L'unico che comunque si distrae però nel sogno ha la fortuna di individuare ogni particolare di quello che succede. Forse è quello che dormendo vede più di tutto. Quasi un transfert del personaggio. Nicolò adesso ti chiedo perché i nostri amici di HTO devono venire a vedere questo splendido presepe? Perché è un presepe unico, è un presepe con delle figure inedite, qualche figura inedita c'è oltre a quelle che abbiamo esposto nelle altre mostre. Perché è un presepe composto in maniera secondo me straordinaria e perché non rende né in televisione né in fotografia nemmeno con la chiacchiera. Bisogna vederlo perché emoziona realmente. Dentro questo salone delle colonne di questo museo c'è un'emozione particolare dalle persone che credono e dalle persone che non credono. È comunque una realizzazione di una scena che rappresenta una bella tradizione italiana. Da continuare a mantenere per i nostri figli, per i nostri nipoti e per la gente che verrà anche facentata. Vi aspetto a Roma all'Euro presso il Museo delle Civiltà fino al 31 marzo per vedere questo meraviglioso, unico, grande presepe napoletano del Settecento. Non vedrete soltanto il presepe perché il presepe è abbracciato da questa bellissima mostra con delle figure selezionate del 1800 di fattura siciliana e napoletana. Per cui vi aspetto numerosi al Museo delle Civiltà Piazza Marconi oltre Roma. Per cui vi aspetto numerosi al Museo delle Civiltà Piazza, Per cui vi aspetto numerosi al Museo delle Civiltà Piazza,